Ogni anno la città di Fano fa questa cosa perché naturalmente la convenzione non è abbastanza conosciuta e abbastanza rispettata. Quest'anno insieme ai bambini del Consiglio e alle classi quinte di tutte le scuole della città abbiamo scelto il diritto al gioco. Perché il gioco? Perché il gioco proprio in questa fase di possibilità nuova di riuscire di casa, negli spazi pubblici, negli spazi aperti, rappresenta appunto quell'occasione di socialità, di incontrarsi da parte dei bambini che ci sembra fondamentale in questa fase. I bambini del Consiglio stanno lavorando in modo entusiasta per preparare questo evento, sarà al pincio con una serie di attività più istituzionali ma anche di gioco vero e proprio, ci saranno tanti laboratori, i bambini verranno divisi in aree dedicate a varie attività e poi alla fine ci sarà una marcia verso i passeggi perché il tema di fondo di quest'anno della Città dei Bambini e del Consiglio dei Bambini sarà l'ambiente e il recupero degli spazi pubblici a questo fine, quindi alla riqualificazione degli spazi pubblici soprattutto dove i bambini possono giocare.